Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Vediamo il tempo che ci attende per il resto della settimana, quando le nostre regioni centromilionali rimarranno ancora abbastanza protette da questo anticiclone che rimarrà stabile in area mediterranea e dunque consentirà tempo abbastanza buono e anche piuttosto mite con temperature che continueranno a superare i 15 gradi piuttosto agilmente. Per quanto riguarda il nord invece questo sarà già raggiunto da correnti più umide occidentali e dunque avremo maggior nervosità soprattutto su Liguria e Valpadana qui a tratti anche compatta e con qualche piovigine, qualche pioggia di debole intensità. Per quanto riguarda però il fine settimana, quindi tra giovedì sera e venerdì avremo un ulteriore peggioramento del tempo sulle regioni del nord a causa dell'avvicinarsi di questa nuova perturbazione legata al vortice di Islanda che poi andrà a formare un minimo ripressionario sul Golfo Libure che porterà delle piogge in estensione dalla Liguria dal nord ovest a gran parte delle regioni del nord e anche alla Toscana. In questo frangente le nevicate si spingeranno sull'arco alpino fin verso i 1000-1200 metri e dunque tornerà la neve che fino a questo momento è mancata sulle nostre montagne e nevicate che potranno spingersi anche più in basso fin verso i 700-800 metri sul Piemonte. Inizialmente ancora buono al centro-sur ma ecco che sabato tenderà a peggiorare anche qui per via dell'approfondimento del vortice depressionario sul Tirreno che andrà poi a richiamare anche aree più fredda in arrivo ai quadranti settentrionali e dunque il maltempo si estenderà anche ai settori tirrenici centro-medionale in un primo momento e successivamente domenica poi potrebbe ancora insistere su gran parte delle nostre regioni per una giornata dunque che si pronuncia ancora piuttosto stabile e anche più fredda per via della discesa di queste masse d'aria appunto di altra estrazione rispetto a quelle che ci hanno interessato fino adesso. Dunque continuate a seguirci perché l'inverno potrebbe veramente entrare nel vivo proprio in concomitanza con il weekend. Per adesso è tutto, seguite i prossimi aggiornamenti